Questo è un progetto sviluppato qui a Pesaro con il liceo Mengaroni, con 12 studenti del liceo Mengaroni e con dei giovani stranieri non accompagnati nelle strutture della cooperativa Labirinto. Abbiamo lavorato sui materiali digitali di questi giovani insieme a loro, quindi su quello che hanno nei loro telefoni, che hanno nei loro social e a partire da questi materiali i giovani artisti hanno sviluppato un proprio percorso narrativo e quindi hanno aperto le proprie valigie per raccontare la loro storia. Sono 16 opere bellissime che raccontano in modo profondo le esperienze di questi giovani che spesso nei racconti dei media o in generale nel discorso pubblico sono presentati come superficiali, poco attenti invece a quelli che sono i valori della società, in realtà sono dei giovani che hanno lavorato in modo davvero eccezionale sulle loro esperienze, producendo delle opere di valore artistico dal nostro punto di vista importante. All'inizio ovviamente aprirsi è un po' una barriera, poi con il tempo, stando due settimane tutti insieme, conoscendoci, passando tanto tempo insieme, ci siamo conosciuti meglio e quindi è stato anche più facile poi raccontare pezzetti di noi che ci hanno aiutato a conoscerci di più e a entrare in relazioni di più e infatti da primo giorno che ci siamo visti all'ultimo comunque anche l'ambiente in cui abbiamo lavorato è cambiato tanto. L'idea dell'allestimento nasce da un percorso laboratoriale che abbiamo fatto con i ragazzi tra i mesi di febbraio e maggio e con loro abbiamo costruito anche un'idea della città, l'idea di Pesaro, come loro la vivono in maniera personale e intima e da lì sono state elaborate delle immagini, quindi delle cartoline che poi gireranno all'interno dello spazio della città che sono state cucite insieme da un filo giallo. Questo filo voleva mettere insieme tutti i lavori, tutte le visioni dei ragazzi e anche diventare il nostro filo conduttore in qualche modo anche dell'identità visiva della mostra. Quindi all'interno dello spazio troverete un filo che vi porta a vedere le singole opere che in questo modo vengono unite in una collettività. Valigie Digitali è uno dei progetti che abbiamo più raccontato anche negli anni di avvicinamento alla Capitale della Cultura essendo uno dei progetti del dossier e lo raccontavamo proprio perché era uno dei più iconici rispetto a una Capitale della Cultura che vuole tenere insieme patrimonio, tecnologia, racconto e anche temi importanti. Si parte dall'idea che le sim dei telefonini ma alla fine anche le nostre baccheche di Instagram o dei social finiscono per essere spesso l'unica memoria reale di storie sia di giovani della nostra provincia ma come iniziato originalmente nel progetto anche di giovani migranti che vengono da un'altra parte del mondo e non avendo altri bagagli la propria valigia è digitale e in quella valigia c'è scritto se è un medico, un calciatore, un poeta o un ingegnere. Allora a partire da questo l'idea è di partire da file contenuti nelle sim o nei supporti digitali per farli diventare una mostra, in questo caso la Galleria Rossini da venerdì alle 18.30 e proseguirà fino alla metà ottobre dove si fa il processo inverso, di solito c'è un'opera che viene poi raccontata, fotografata e diventa un racconto digitale. In questo caso invece no, è la vita, che sia un luogo, che sia un'emozione, che sia uno scatto rubato, che sia un momento di ricordo che diventa in questo caso una mostra visiva a partire da foto, sviluppi e stampe, cartoline sia di storie di giovani provenienti appunto in particolar modo dall'Africa ma anche di giovani, in questo caso del DC artistico Bengaroni che assieme al labirinto è partner del progetto e che quindi racconta la loro vita, il loro modo di vivere peso, il loro modo di vivere anche la loro età.